Il cittadino italiano deve andare a votare alle elezioni amministrative. Il primo motivo più semplice è che tu vivi in un comune, si vota per il tuo comune e per la tua città, dove si gioca la qualità della tua vita, la possibilità per i tuoi figli di andare a scuola, e allora non è indifferente chi ti potrà governare, anche se oggi la sfiducia sembra essere quella che dominare. Noi dobbiamo votare alle prossime elezioni amministrative proprio perché è in gioco il destino del tuo paese, e lo può cittare. Grazie.